Chiamo Caro D'Affara, sono oltre ad essere imprenditore con un'azienda qui e una a Bristol, sono un ricercatore da diversi anni per la Commissione Europea e mi occupo di valutare l'impatto delle nuove metodiche, dei nuovi modi di fare economia, di fare business, di fare scienza, di fare tecnologia, basati sull'idea di condividere la conoscenza anziché cercare di compartimentalizzarla, di chiuderla in un angolo solo. In questo senso il Friuli si presta molto bene, prima di tutto perché abbiamo un'ottima presenza di università, abbiamo ottimi collegamenti e siamo un crocevia di culture e di persone che rende molto più facile parlare di open, parlare di condivisione qui che non in altre parti. Qui adesso abbiamo una conferenza che è già il secondo anno che viene tenuta dal DTedi ed è un bel modo secondo me di far conoscere anche al di fuori di quella che è forse una cerchia un po' ristretta di esperti, l'idea che c'è la possibilità di fare le cose non ovunque ma in alcuni posti specifici, farle in modo diverso, farle in un modo che parte dal presupposto di collaborare, di non considerare soltanto un'idea di fornitore, di cliente, ma l'idea che quando si creano delle strutture complesse in realtà si è tutti partner, si è parte di un unico ciclo economico e questo modo di pensare si sta dimostrando molto efficace da un punto di vista economico e si sta dimostrando capace di portare un'innovazione che gli ultimi vent'anni di strategia tradizionale non sono riusciti a spingere anche nelle aziende un po' nei settori più tradizionali.